Allora, signora De Magistris, sono una mattinata costruttiva per parlare di sicurezza stradale, ma lei lo diceva bene, da dove bisogna incominciare? Si deve incominciare da ogni punto di vista, perché è un tema che coinvolge tutte le istituzioni, la società, le famiglie, le scuole, però noi siamo venuti qua a portare concretezza. C'è opere che abbiamo realizzato e che stiamo realizzando con i fondi della città metropolitana per mettere in sicurezza strade, costoni, infrastrutture. Quindi insieme ai sindaci, quindi con un lavoro di sinergia e quindi insieme agli abitanti, perché poi i sindaci rappresentano gli abitanti. Loro hanno presentato dei progetti sul piano strategico che ho voluto fortemente finanziare insieme al Consiglio metropolitano e quindi non è un'opportunità, questa è una certezza. E oggi ho ascoltato anche tanti consigli e tanti suggerimenti che ci porteranno ancora di più a lavorare al meglio insieme per questi soldi. Lei lo diceva alla fine, è questione di educazione però. La maggior parte degli incidenti adesso sono dovuti al fatto che le persone mentre guidano un motorino o una macchina scrivono al cellulare, rispondono al telefono, scrivono Whatsapp. Questa è una roba indegna, su cui credo ci sia bisogno anche di un intervento normativo nazionale, però con sanzioni molto pesanti.